Ciao ragazzi, adesso voglio farvi vedere che allenamento faccio per le spalle, oggi è il giorno le spalle e farò tre, massimo quattro esercizi di spalle, non userò, userò un po' di attrezzi quello che ho però questo è il tipo di allenamento che faccio io. Ovviamente le spalle sono dei muscoli difficili a allenare a corpo libero e isolarli bene a corpo libero per cui io devo utilizzare almeno un elastico. Il primo esercizio che faccio sono i cubo shak, che per me è un esercizio pesante visto che ho preso un pochetto. Lo faccio con le parallele basse. Dato che Iacomo ha fregato i manopoli mi ha toccato al singolo, alza del laterale e singola. Dato che non sono soddisfatto dell'alza dei laterali, voglio fare ancora un po' di spalle laterali, faccio un po' di questo. E' un esercizio più rifaciliato. Questo è l'ultimo esercizio delle spalle per la spalla posteriore. Le manette tosto, anziché di fare con l'elastico, non ce l'ho da niente. Quindi, riepilopo della manetta di oggi. Spalle, quindi 6 per max pusha. Poi sono partito da 6 e sono finito a 4. Spinte con l'elastico. Sono uscito a farne da 10 a 8. Le aperture, le ho fatte tutte da 10. Almeno le ultime erano un po' più faricate. Croce anelli, sono partito da 6 e sono arrivato a 1. Back shoulder agli anelli, sono partito da 10 e sono arrivato a 6. Questo è l'allenamento di spalle. Se ci trovate, lasciate un commento su come l'avete sentito e se avete visto il giorno successivo. E io vi farò sapere. Mettete un like a questo video se vi è piaciuto. E se volete potete scrivere nei commenti un allenamento che vi piacerebbe che io facessi prepararsi. Quindi se vi è piaciuto questo video lasciate un like e in descrizione potete suggerirmi qualche altro video per altri allenamenti. Vi saluto a tutti, un ciao, un abbraccio. Ciao. 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 Ciao.